Salve cari amici, tutto bene e bentornati nella soffitta di Camera Mia. Quest'oggi parliamo di Morgan Lost numero 13, intitolato Il Segreto di Juliet. Sergio Bonelli, editore, 3,50€ il prezzo, come sempre bianco-nero a scala di grigio. Vi farò vedere un disegno di Luca Raimondo, ai disegni di questo numero. I testis, come sempre, di Claudio Chiaverotti. Studio Arancia ha i colori di questo ennesimo albo, venuti in questo giro molto molto bene. Passiamo adesso al contenuto dell'albo, che vi premetterò fin da subito, a me non è piaciuto. Non mi è piaciuto l'albo in generale, la storia non mi ha convinto. C'è una tematica di fondo che è molto interessante, e che probabilmente chi si sente più vicino a quella tematica, a quel tema, troverà comunque l'albo gradevole. Ma forse non sono così vicino a quel tema, o forse è proprio la storia che non è ben riuscita, ma a me l'albo in generale non è piaciuto. Adesso scenderò un pochettino più nei dettagli, ma non farò spoiler, ci tengo a precisarlo. Non vi svelerò qual è questo segreto di Juliet. Rimarrò vago, non vi svelerò per l'appunto, quindi né quale è il segreto né come finirà l'albo. Mi scuso un attimino. E vediamo il contenuto di questo albo. In copertina potete vedere che c'è un uomo vestito di giallo, in realtà, come possiamo vedere, sono questi due uomini vestiti di rosso, che sono Castor e Pollux. Il perché avendo che metto colore in copertina non era più palle l'idea. Comunque, al di là di questo, di che cosa parla questo segreto di Juliet? Come potete vedere, la scena comincia in una festa su un terrazzo di un grattacielo, dove i vari personaggi sono travestiti da personaggi dei fumetti, supereroi generalmente, e ci vengono presentati questi due personaggi, Castor e Pollux. Castor e Pollux, scopriremo poi, questo qui è fondamentalmente l'unico spoiler che vi faccio, sono due sicari che lavorano al servizio di un edificio della città di New Heliopolis chiamato Wedding House. Questo edificio il cui obiettivo, il cui scopo non è proprio chiaro, al di là del nome, non è così chiaro, che vengono incaricati di volta in volta di delitti, omicidi, raggiri, truffe, cercare di riscuotere dei soli da della gente, ed è forse per questo che si trovavano in quella festa, anche se non è che venga proprio detto e chiarito, e scopriamo che uno dei due, in particolar modo, è estremamente suscettibile, se gli si tocca qualcosina nel loro modo di essere, di vestire, di relazionarsi, hanno delle reazioni piuttosto brusche. E quindi, questo qui è un attimino il prologo delle prime 10-15 pagine. Dopodiché la scena si sposta sul nostro solito cinema de sé, dove Morgan Lost va a vedere i film di serie Z, che cominciano ormai a piacermi anche a me quando li vedo disegnati sulle pagine di Morgan Lost, e qui, per puro caso, incrocia Juliet, una ragazza che è fuggita effettivamente dalla Wedding House, e che, per qualche motivo, si sente del tutto smarrita all'interno della città. Morgan cercherà quindi di avvicinarsi, di capire qual è il suo problema, e di capire come poterla aiutare, nel mentre che Castor e Pollux vengono incaricate, a loro volta, di rintracciare la ragazza, e di non lasciare in vita nessuno con cui la ragazza sia entrata in contatto. Questa è un attimino la premessa, che presuppone una storia, che, sinceramente, presuppone una storia che potrebbe essere molto interessante. Il problema è il susseguirsi degli eventi che di lì in poi accadono, che sono tutti, a mio parere, troppo casuali. Una serie di eventi, che potrebbero essere anche causa-effetto, in realtà, che tendono a generare tensione, ma che poi va abbastanza sceamando. I due si recano al cinema del sé, c'è una sequenza di un paio di pagine con il proprietario del cinema che guarda le varie pizze del cinema, quindi le varie bobine, con la gente che si aspetta, magari, che i Castor e Pollux entrano, e poi, effettivamente, non succede niente. Per poi proseguire un insieme... E anche lì, la scena è veramente a livello del... Sembrava che avessero delle pagine da riempire e non sapevano come riempirle, tanto da inserire scene, anche piuttosto lunghe, che non dicono nulla della storia. Approfondiscono, forse, un pochettino l'universo di Morgan, ma neanche, visto che l'unica è quella scena lì del cinema. Per il resto, è un susseguirsi di eventi casuali. I due incrociano per caso dei personaggi che hanno incrociato per caso Morgan Lost e per caso lo incontrano per strada a Morgan Lost, mentre si stanno dirigendo verso la casa di Morgan, che, ok, ha senso che vicino a casa di Morgan possono trovare Morgan, ma il per caso, il tizio che per caso ha incontrato Morgan l'indirizza verso la casa di Morgan, ma loro, mentre stanno andando in quella direzione, lo incrociano per strada. troppo casuale, non lo so come spiegarlo. Ha uno sviluppo che non mi è piaciuto, sembra veramente un... non è un'indagine che ti porta a dire ah, sto indagando, indagando, scopro questa cosa qui e quindi vado a chiedere a... no, è per caso, lo incontrano subito e per caso. E quindi questo fondamentalmente è quello che non mi è piaciuto di questo segreto di Juliet, perché per il resto la storia ha un buon incipit, un buon prologo iniziale, una conclusione su un tema, piuttosto delicato, ma potenzialmente interessante, ma che non mi ha colpito più di tanto, che si lega anche questo qui al segreto di Juliet, e un finale che, vedendo come stanno finendo le storie di Morgan Lost, è il finale più o meno classico di una storia di Morgan Lost. Quindi anche qui niente di troppo nuovo sotto i punti. Ed è un peccato, perché è la prima storia della seconda annata del personaggio e mi aspettavo qualcosa di più, qualcosa di più interessante, che non una storia dove gli eventi si susseguono in maniera casuale, apparentemente casuale. Vedremo cosa succederà nel prossimo volume, Una vita perfetta, dove abbiamo un Babbo Natale cattivissimo, che sinceramente non vedo l'ora di vedere all'opera, e speriamo in un cattivo un pochettino più carismatico. Qui abbiamo i cattivi, non sono neanche così carismatici, così interessanti da reggere la storia, per quanto ci sia dietro qualcosa che è interessante, ma effettivamente chi agisce non è così interessante, almeno per me non sono stati, non sono cattivi così interessanti, questo Castor e questo Pollux. E da Morgan Lost mi aspetto dei cattivi, degli antagonisti per quanto riguarda la storia, che abbiano un certo peso, siano strambi, ma anche se non sono strambi, che abbiano un certo peso, che abbiano del carisma, cosa che Castor e Pollux non hanno, non hanno quasi per niente carisma. Di Una vita perfetta è uscita una variant, a Luca Comics & Games, che non ho acquistato, non sono andato a Luca, quindi non penso che la recupererò, quella variant, visto che comunque sia le copertine di Fabrizio De Tommaso, mi fanno impazzire, forse questa è una delle meno riuscite, ma devo dire che mi piace tanto. E detto questo, ci vediamo alla prossima video-opinione del canale.